Noi andiamo subito in diretta, nella realtà la nostra Sara Mariani oggi a Padova, a Veneto, che sta per passare in zona gialla per l'allarme sanitario. Sara Mariani, buongiorno. Sì, buongiorno Luisella. Lo ha detto anche il governatore Zaia ieri in un'intervista. Il Veneto purtroppo è sul filo e si prepara a passare un Natale in giallo. Perché? Perché i parametri sono già, due su tre sono già stati superati già da diversi giorni. Manca soltanto quello dell'area medica che è ancora al limite. Io sono nella terapia intensiva, Luisella, dell'ospedale di Padova. Sono qui con il dottor Ivo Tiberio, che è il primario, che ringrazio tantissimo di essere qua perché so che sta facendo uno sforzo per esserci. Perché lui in questo momento è a capo di questo reparto e anche della rianimazione dell'ospedale Sant'Antonio che è una rianimazione covid aggiuntiva che è stata riaperta proprio per questa emergenza da un paio di settimane. Il dottor Iberio mi diceva che la situazione è drammatica in questo momento perché qui i posti sono finiti in questo momento. Tanto buongiorno a tutti. In questo momento abbiamo, come è stato detto dalla dottoressa Mariani, due rianimazioni impegnate ed dedicate esclusivamente ai pazienti covid. Questa rianimazione è qui, la rianimazione centrale che dispone 18 posti lette. Questa notte è stato occupato il diciattesimo posto, mentre a Sant'Antonio in questo momento abbiamo due posti letto libere. Però abbiamo cinque pazienti tra di qua e di là potenzialmente trasferibili e sono estubati. Per cui li valutiamo in giornata se sono in condizione di essere trasferiti. Ecco, una cosa che il dottor Iberio mi diceva prima, Luisella, è che molti di questi pazienti, molti sono anche giovani, ce ne sono alcuni di 37 anni della mia età e mi ha detto che molti arrivano al pronto soccorso e anziché magari come durante la prima ondata fare tutto il passaggio fino all'intensiva che è l'ultimo step, quello diciamo di massima gravità, dal pronto soccorso in questo caso spesso vanno a finire direttamente intubati in terapia intensiva. Perché questo succede? Ma sì, in questa quarta ondata, se possiamo definirla tale, abbiamo avuto un aumento di pazienti che arrivano direttamente dal pronto soccorso. Spesso sono pazienti giovani, pazienti che cercano di resistere fino all'ultima casa e poi quando arrivano in pronto soccorso hanno già un coinvolgimento polmonare importante per cui vengono intubati o trasferiti e vengono intubati appena arrivano in terapia intensiva. Stiamo parlando di pazienti che hanno rifiutato il vaccino, giusto? Sì, in questo momento abbiamo un percentuale dell'85% dei pazienti non vaccinate, ricoverati in terapia intensiva. La fascia di età è intorno ai 60 anni, tra i 50 e i 60 anni e sono pazienti che stanno sostanzialmente bene. Quindi chi viene in terapia intensiva dei giovani e ha il covid è un paziente sano in genere. Lei mi diceva, professore, che spesso si fa anche fatica con queste persone a far capire la gravità della situazione perché rifiutano di essere intubate. Ora a me questa mi sembra una cosa folle. Come fate? Voi dovete anche convincere le persone poi quando arrivano in terapia intensiva che è il momento di essere intubate? Ma spesso queste persone sviluppano degli autoconvincimenti su base, diciamo, irrazionali e fanno difficoltà alcune volte a mettere, a accettare che possano trovarsi in situazioni di difficoltà perché il covid non guarda in faccia a nessuno e colpisce anche i pazienti giovani. Quando arrivano in terapia intensiva alcune volte sono un po' polemici perché non vogliono ammettere di trovarsi in una situazione di fame e d'aria ma poi quando la situazione capiscono che rischiano di morire a quel punto li accettano tutti di farsi intubare. Sì, no, un affresco di progressione. Grazie davvero perché insomma una progressione di gravità dal non essere vaccinati al non volersi fare intubare, arrivare tardi quindi quando è necessario passare in rianimazione in ospedale, insomma mi sembra che il quadro che ci ha rappresentato il professore è chiarissimo purtroppo, dopo peraltro parleremo anche delle fake news tra cui il covid non esiste, il vaccino è sperimentale che cercheremo di smontare perché è da lì che nascono questi irriducibili speriamo di riuscire a convincerli. Intanto c'era Duggiunto, lo vedo, buongiorno anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, Partito Democratico, oltre che presidente di Alice Autonomie Locali Italiane. Allora, professor Galli, però parto inevitabilmente da lei perché non...